che tipo di partita è stata una partita difficile però non era facile giocare perché il tempo il campo non siamo una squadra che con questo clima con questo campo risalta magari un po' le caratteristiche nostri giocatori perché sono magari caratteristiche diverse abituati a giocare palla a terra però sono stati bravi ragazzi perché sono stati bravi a leggere soprattutto la partita la situazione non avevo chiesto prima della partita di essere molto concreti non belli ma concreti e la squadra ha fatto veramente una partita importante sono stati bravi a sbloccarla subito poi chiuderla potevamo fare anche un altro gol o più di qualche altro gol però poi alla fine la cosa importante era portare a casa i tre punti e soprattutto non abbiamo mai sofferto e quindi sono doppiamente contento. Nota positiva e cosa invece bisogna migliorare? Migliorare tanto migliorare su tantissime cose lo sanno i ragazzi c'è sempre da migliorare in tutte le situazioni in tutti i settori in tutte le zone di campo nei reparti c'è tanto da lavorare perché non finisci mai di migliorare lavorando poi sempre migliorare e noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare poi mi è piaciuto l'atteggiamento ripeto come ho detto prima l'atteggiamento di una squadra che voleva a tutti i costi la vittoria. Si è visto il miglior Elia della stagione? Io conoscendolo no perché Elia ha tanti margini di miglioramento è un ragazzo che sta con me da tre anni conosco pregio e conosco difetti lui deve essere solo ha un grosso difetto che glielo dico sempre lui quando inizia la partita e non riesce a fare quelle due tre giocate all'inizio che magari vuol fare non riesce a farlo e poi un po' si si deprime questo non può non può permetterci per diventare un giocatore importante al di là delle situazioni che crei sia positive o negative bisogna essere sempre equilibrati lui ancora questo gli manca è uno come la maggior parte dei ragazzi si esaltano facilmente quando fai le giocate le belle giocate e si deprimono facilmente quando magari non gli viene magari qualche giocata. Qual è l'obiettivo prossimo delle tre partite? L'obiettivo prossimo è la partita di domenica le tre partite non le penso io penso a domenica è troppo andiamo troppo in là con i pensieri già dobbiamo dobbiamo lavorare bene questa settimana perché sarà un'altra partita difficile come lo saranno tutti e quindi pensiamo solo a domenica questa vittoria ha un sapore particolare sì intanto la vogliamo la voglia la vogliamo dedicare a leonardo genci perché io non conoscevo la storia e l'altro giorno è venuto il papà a raccontare un po la storia è stata una storia veramente molto commovente e quindi la dedichiamo a lui che sono contento che è felice perché lui era un grande appassionato e tifoso del perugia la dedico alla famiglia perché la perdita è un caro di un figlio soprattutto qualcosa di non si può non si può descrivere secondo me la perdita io purtroppo nella mia vita ho subito la perdita di un fratello molto giovane e anche del mio papà e quindi so perdere un proprio caro cosa significa quindi in questo momento gli dedichiamo questa vittoria per per dare un piccolo sorriso e soprattutto per ringraziare per quelle cose belle che ci ha che ci ha raccontato che ci hanno fatto capire il vero valore della vita e soprattutto nelle difficoltà come diceva ieri l'altro giorno il papà di leo e avanti tutta perché quando vuoi ottenere un qualcosa la testa il cuore ti aiutano a ottenerla siamo con federico melchiorri che tipo di partita è stata ma è stata una partita difficile e stancante soprattutto per a livello del campo che con tutta quell'acqua che è scesa era abbastanza abbastanza impraticabile però siamo stati bravi a modificare la nostra tipologia di gioco e a sfruttare altre altre qualità che avevamo a sbloccare subito la partita a chi dedichi questo gol ma guarda oltre naturalmente le mie figlie che quelle comunque nel nel mio cuore ci sono sempre penso che dedicare questa vittoria e questo gol a leonardo cenci sia la cosa più giusta la classifica si sta delineando cosa può dire il perugia a questo punto del campionato ma è ancora presto secondo me di parlare di classifica e di e di obiettivi noi sappiamo che ogni partita è fondamentale dobbiamo guadagnare il massimo risultato però ecco manca ancora più di un girone quindi noi siamo stiamo andando avanti sulla nostra strada